Ciao a tutti amici, oggi sono a Nur e sono venuta a ritrovare lo splendido complesso del Nudule, un complesso che comprende un enorme nuraghe, lì, purtroppo non visitabile, panna, guardate all'esterno c'è una parte con un bancone sedile, ecco la capanna, c'è uno splendido focolare al centro, di fronte all'ingresso, come vedete abbiamo due nicchie nello stesso lato, ora andiamo, venite con me, ed eccomi nella zona sacra, c'è un'area incredibile, guardate, con una vasca che veniva utilizzata per i rituali pubblici che venivano svolti all'esterno e adesso andiamo nella struttura, ecco qui l'ingresso, guardate la meraviglia della policromia di questo posto, vedete che c'è della trachite, la pietra rossa, fino al nono filare abbiamo trachite, dopodiché continua il granito, la vera sorpresa sta all'interno, perché abbiamo il simbolo veramente di questo sito, che è nella copertura tolos della fonte, troviamo una specie di oculo o un sesso femminile, di questo vi faccio vedere una fotografia, perché è veramente impossibile riprenderlo, il sito è immerso in una natura spettacolare, comprende dei massi erratici, ma tra questi massi erratici troviamo per esempio questo, e per esempio questo dietro di me, è chiaramente un circolo, spero si veda qualcosa, anzi spero non si veda niente perché dovete venire qua, ciao! 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 Ciao!